Stasera abbiamo il piacere di incontrare Dario Renzi, che ci proporrà la presentazione del suo ultimo libro, Il risolvibile del socialismo scientifico. Si parla di Rosa Luxemburg e si parla della sua ideologia. Ecco, Rosa Luxemburg è l'ideologa del socialismo umanista, se non sbaglio. Ecco, è un personaggio che pur essendo vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900 è sicuramente un personaggio assolutamente attuale dal punto di vista ideologico. Addirittura l'ho trovato forse più all'avanguardia di tanti avanguardisti che a tutt'oggi comunque portano avanti un certo tipo di discorso. Come è possibile avvicinarsi al suo pensiero per conoscerlo e per imparare? Innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità di poter parlare di un personaggio così straordinario. Grazie alla vostra emittente e grazie a te. Io credo che l'attualità di Rosa Luxemburg non vada tanto ricercata nella figura e nemmeno nell'opera in senso stretto. E sì che è stata un'opera straordinariamente importante. Quanto nella persona, innanzitutto. Una persona che ha dimostrato una coerenza etica in tutti gli aspetti della sua vita, del suo impegno, assolutamente straordinaria. Cosa che chiama ancora di più l'attenzione in una fase in cui l'incoerenza di tanti personaggi pubblici, dei politici, l'incoerenza ipocrita è così forte. E la coerenza degli umili, delle persone normali, a cui Rosa Luxemburg si rifaceva, è una coerenza purtroppo muta, purtroppo spesso non in grado di farsi sentire. Rosa cerca la coerenza, la cerca in tutti gli aspetti. La cerca nell'impegno socialista, la cerca nella vita di ogni giorno. Il che credo sia di un'attualità assolutamente stupefacente, perché troviamo i significati più profondi del suo impegno socialista nelle piccole cose della vita quotidiana, nella sua passione per la botanica, nella sua passione per le cose belle, per l'estetica. E d'altra parte, nelle sue movenze, anche più banali, più quotidiane, c'è tutta la profondità del suo impegno rivoluzionario e socialista. Il che dice del perché forse è difficile conoscerla, ma può essere così importante, così bella, bello conoscerla e riconoscerla. E però credo che per conoscerla e riconoscerla ci sia bisogno innanzitutto di un atto d'amore. Quello stesso amore che lei metteva nell'impegno come nella vita quotidiana, metteva verso le altre specie, verso i compagni operai, anche i più umili che ne andavano a chiedere un consiglio, verso le sue amiche, che erano tante, ma verso i suoi amanti, con cui si rapportava in maniera così trasgressiva per l'epoca. Per conoscere Rosa Luxemburg e per riconoscerla ci vuole amore, ed è un amore che non ci allontana, ma viceversa ci alimenta la saggezza, la possibilità di comprendere più profondamente le ragioni che lei stava cercando. Quindi Rosa Luxemburg dava tantissima importanza a quelli che sono i rapporti interpersonali. Quindi tu come li vivi, i suoi rapporti interpersonali e come li potremmo calare nell'attualità? Questo suo modo di rapportarsi, questa sua capacità di ascoltare, questa sua capacità di comprendere, che è così rara, come dicevi tu, no? Questo suo rispetto per l'etica, che mi sembra che affiori in maniera piuttosto evidente, che mi sembra che sia rimasta una base del socialismo umanista, quella dell'ideologia che si porta avanti da parte del socialismo rivoluzionario. Sì, effettivamente io credo che Rosa Luxemburg desse un'enorme importanza ai rapporti interpersonali, ma questo non era casuale, credo che non fosse scisso dal modo in cui intendeva e interpretava il proprio impegno. In realtà, diversamente da tanti personaggi dell'epoca, dai suoi coevi, dai suoi compagni di lotta e di partito, io credo che lei avesse intuito, se non teorizzato, perché non lo teorizzerà mai fino in fondo, ma avesse intuito che i rapporti interpersonali, i rapporti umani erano l'inizio necessario, l'inizio emotivo, l'inizio affettivo di qualunque rapporto sociale. Rosa Luxemburg non aveva un'idea astratta, un'idea fredda, un'idea anonima, un'idea generica dei rapporti sociali. E' straordinario, per esempio, quando su richiesta di Franz Mering, questo grande studioso della vita e dell'opera di Marx, lei fa un sunto dei primi libri del Capitale e cerca esattamente di umanizzare quello che Marx provava a dire in termini più scientifici. Questa ricerca c'era moltissimo e c'era quotidianamente nella vita di Rosa. I suoi rapporti sociali, anche quelli più problematici, erano comunque rapporti umani. Basti pensare all'amicizia che la legò tutta la vita, a Luis Kautsky, che era la moglie del suo maestro, ma che poi diventerà il suo avversario, insomma, il papa rosso della socialdemocrazia tedesca, con la quale sarà la prima a rompere da un punto di vista politico. E verso cui però manterrà una stima, manterrà una simpatia umana, perché questa era la cosa più importante per lei. Per citarla a braccio, dirà che ogni lacrima è versata, è un atto d'accusa contro le brutture e le cattiverie di questa società. E d'altra parte, per lei, veramente la cosa più importante, anche se poi non lo svolgeva, non lo sviluppava, ma era la cosa più importante da un punto di vista sociale e da un punto di vista socialista. Come ebbe a scrivere? Era il fatto di essere, di provare sempre a essere buoni. Come la vedresti nel nostro contesto sociale? Problematicamente, ma la vedrei, la vedrei un personaggio molto scandaloso, molto trasgressivo, molto sconvolgente, però anche molto costruttivo, anche molto propositivo. La vedrei con non minori difficoltà di quelle che aveva allora nel farsi accettare come donna e come ebrea di nascita e polacca, quindi minoranza di una minoranza, e tra l'altro con un handicap fisico che affrontò sviluppando ulteriormente il fascino della propria personalità. Però in questa affermazione era l'opposto di una donna in catiera. Rosa riflette sempre, vive moltissimo la sua femminilità, senza mai aderire veramente, tra l'altro anche provocando la tristezza di alcune sue grandi amiche, come Clara Zetkin, non aderì mai al femminismo dell'epoca, però aveva sempre molto fortemente presente il suo essere donna e la sua femminilità. Eppure era l'opposto di una donna in catiera, insomma. Era una donna che cercava la propria strada e cercava di essere apripista alla liberazione di altre donne e di altri uomini. Sono passati dieci anni tra le due edizioni di questo libro. Che cosa è maturato nella tua ideologia? Che cosa è cambiato nei confronti del tuo rapportarti all'ideologia della Luxemburg? Sono cambiate molte cose, e sono cambiate anche grazie a Rosa Luxemburg. Però sono stati dieci anni di grandi minacce, di grandi tragedie di vario tipo. Non solo l'11 settembre, non solo la guerra permanente, che non ha inizio e non ha fine, e ne prendiamo più coscienza, ma anche altre tragedie come lo tsunami, che hanno colpito tanti nostri simili, che mi hanno colpito personalmente. Però sono stati anche dieci anni in cui cominciano a emergere, a albeggiare, o a ritornare, delle grandi promesse, delle grandi speranze da parte della gente. Il fatto che tanti bimbi e tante bimbe muoiono di fame nel mondo, però questi bimbi e queste bimbe non smettono di sperare, non smettono di sorridere, non smettono di aver voglia di giocare, sicuramente è una cosa che avrebbe fatto pensare molto Rosa. La Luxemburg aveva come suo slogan preferito, come suo grido di battaglia, come suo motto della vita, diceva socialismo o barbarie, indicava questa alternativa. Ebbene, da allora, da quando lo disse, il socialismo sembra più lontano. La barbarie sembra già cominciata. Se guardiamo a quello che succede, se guardiamo alla devastazione, al degrado, alla disperazione, a cui tanta parte dei nostri simili sono portati, ci si rende conto dell'attualità o del fatto che quella parola d'ordine si realizza in concreto, soprattutto nell'aspetto più negativo. Però in realtà, a ben guardare, se è vero che la barbarie ha preso piede, quindi la profezia terribile di Rosa Luxemburg si realizza, è anche vero che il socialismo è attuale, forse soprattutto nel senso in cui Rosa Luxemburg lo viveva, più che nel senso di come lo teorizzava, di come cercava di scriverlo. Cioè il socialismo è possibile se lo si comincia a vivere, se lo si comincia a sentire, a pensare, a comunicare agli altri, nei rapporti quotidiani, nelle cose più piccole, non solamente nelle grandi idee. E questo Rosa lo praticava, anche se non riusciva, ripeto, a teorizzarlo, a generalizzarlo sufficientemente. E' una testimonianza vivente, incarnata, costante, di questo. E in questo senso, come tu già mi hai ricordato nelle tue domande, c'è l'attualità, ma l'attualità, l'essere Rosa Luxemburg, un classico, se la si ama, sta esattamente nel fatto che ti invita anche a superarla, a teorizzare maggiormente, a capire di più, a fondare più profondamente il socialismo, innanzitutto come un fatto umano e come un fatto umanista. Questo credo che sia il grande messaggio, rendere più esplicito, rendere se possibile ancora più organico quello che Rosa Luxemburg ha cominciato nella sua vita. Cioè concepire il socialismo come un passaggio per un'umanità più giusta, per un'umanità più felice, per un'umanità più libera, finalmente. La crescita dell'uomo, questa rappresenta il desiderio della crescita dell'uomo, quindi è molto più vicina al reale di quanto si possa immaginare. Cioè quindi è più vicina addirittura al reale di quello che può essere il partitismo applicato, forse. Certamente, quello che dici, cioè la donna e l'uomo nuovo non vengono dopo, non possono essere una creazione del socialismo, vengono prima, sono loro che cominciano il socialismo. Ringrazio moltissimo e speriamo che questo sia il primo incontro, cui farà seguito, speriamo, una lunga chiacchierata da proporre ai nostri ascoltatori. Ringrazio